Tutti probabilmente hanno sentito parlare dell'asteroide che 66 milioni di anni fa precipitando del Golfo del Messico ha causato l'estinzione dei dinosauri e di quasi tutte le specie del pianeta. Ma non tutti, forse, hanno sentito parlare di un altro importantissimo asteroide che cadde sopra la Siberia più di 100 anni fa e causò un'esplosione immane che entrò nella storia. Ed è proprio di questo asteroide che parleremo in questo video. In memoria di questo evento storico è stato istituito l'Asteroid Day che ricorre ogni anno il 30 giugno. Noi con questo video, anche se anticipato di qualche giorno prima del 30 giugno, facciamo parte delle iniziative previste quest'anno per ricordare l'evento e sensibilizzare sul rischio di impatto per asteroidi. Io sono Alessandra Raffaele, presidente dell'associazione Polaris e ho l'onore oggi di presentarvi uno dei più attivi conferenzieri della nostra associazione, Luigi Pizziminkhi. Luigi è vicepresidente di Polaris ed ha sempre avuto un ruolo nel consiglio direttivo, ma soprattutto è un socio fondatore. Pensate, più di 25 anni fa, quando era poco più di un ragazzo appassionato di astronomia, insieme ad altri amici, ha fondato questa bellissima associazione No Profit per la divulgazione scientifica. Quindi, se oggi siamo qui, dobbiamo anche ringraziare lui. Luigi è un astrofilo esperto, possiede un telescopio ed è appassionato di corpi minori del Sistema Solare. Ha tenuto negli anni moltissime conferenze, sia presso la nostra sedia Polaris, che presso il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, che il Castello d'Albertis e in altre prestigiose sedi. Inoltre, è docente del corso extracurricolare di astrofisica presso il Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Vi auguro dunque una buona visione di questo video, di questa puntata degli Astro Cocktail e, brindando come da consuetudine con voi. Vi ricordo che potete rivedere tutti i video degli Astro Cocktail sul nostro canale YouTube Astrofili Polaris, a cui potete iscrivervi gratuitamente. Buona visione, mi raccomando, moderazione nel bere, ma esagerate con l'astronomia. Per l'Astro Cocktail di Polaris oggi parliamo di asteroidi e celebriamo l'Asteroide Day, la giornata internazionale degli asteroidi che si celebra ogni anno il 30 giugno. Ma perché è stata scelta la data del 30 giugno? Il motivo è che uno degli impatti cosmici più famosi è quello conosciuto come evento Tunguska, l'enigma di un impatto cosmico avvenuto sui cieli della Siberia oltre un secolo fa, esattamente la mattina del 30 giugno 1908. Nel tempo molti studiosi e ricercatori hanno studiato questo evento, ma a distanza di un secolo ci sono ancora molti misteri insoluti, come vedremo fra poco. La zona interessata è quella della regione del fiume Tunguska, un fiume che scorre nel cuore della Siberia. Si è trattato di una esplosione avvenuta in atmosfera, con le stime e i dati di oggi sappiamo che è avvenuta ad una quota che è fra i 6 e i 10 chilometri di altezza. E si è trattato di un bolide, cioè di un corpo cosmico che è entrato nella nostra atmosfera a grande velocità, causando una grossa esplosione e una grossa fiammata che ha devastato una grossa porzione di foresta della Siberia. Per le testimonianze che si hanno e le registrazioni dell'epoca sappiamo che questo evento è accaduto all'incirca fra le 7.14 e le 7.17 ora locale, causando una fortissima esplosione e un boato che è stato udito addirittura a 1.200 chilometri di distanza. Questa esplosione ha causato anche una violentissima onda sismica che è stata registrata in molti laboratori all'epoca. Addirittura è stata registrata in Germania, nella città di Iena, che si trova a 5.200 chilometri di distanza. Il terreno e il territorio devastato sono grandissimi. Si tratta di una superficie di circa 2.000 chilometri quadrati. Più o meno corrisponde alla superficie di un cerchio con il diametro di una cinquantina di chilometri. Per fortuna la zona è scarsamente abitata e infatti non si sono registrate vittime fra le persone, almeno non ci sono vittime accertate, però la foresta venne completamente distrutta e si stima che circa 80 milioni di alberi vennero distrutti, abbattuti ed inceneriti da questa esplosione. L'energia rilasciata è stata enorme, equivalente grossomodo a 800 volte la bomba di Hiroshima che ha distrutto la città di Hiroshima. Quindi si tratta di una esplosione effettivamente molto molto intensa. Vediamo sulla cartina dove si trova la località di Tunguska. Vediamo che nel cuore della Siberia, in una regione dove non ci sono città o villaggi grandi, per fortuna, a una latitudine di circa 60 gradi. Questo ci fa capire che tutto sommato siamo stati fortunati, perché se fosse successo qualche ora più tardi, alla stessa latitudine abbiamo città come San Pietroburgo, Helsinki o Oslo. Quindi i danni e le vittime sarebbero potuti essere molti di più. Questa onda sismica all'epoca è stata registrata in diverse località, ma i dati sono stati pubblicati solamente due anni più tardi o addirittura come i dati di Iena, che si trova a 5200 km, sono stati pubblicati ben cinque anni più tardi. E questo è perché ovviamente all'epoca le comunicazioni non erano facili come sono oggi e perché si trattava comunque la zona interessata, era interessata da poche persone sparse su un territorio molto vasto. Quindi la notizia di questa esplosione impiegò molti anni ad essere divulgata. Quindi le misure che erano state fatte in giro per il mondo, sia sull'evento sismico, sia sull'onda di pressione, non vennero correlati immediatamente all'evento di Tunguska, ma impiegarono molto tempo, addirittura anni. Addirittura per quanto riguarda il sisma, l'associazione fra l'evento di Tunguska e il sisma misurato è avvenuto poi nel 1925. In quella stessa data dell'evento di Tunguska, in diversi laboratori in giro per il mondo, venne registrata anche un'onda di pressione, registrata dai barogrammi dell'epoca, che per fortuna vennero conservati e dimostrò proprio il propagarsi di questa onda di pressione legata alla grande esplosione che a distanza di anni, riguardando i barogrammi, ci si è accorti che aveva compiuto addirittura due volte il giro del mondo. Anche in questo caso l'associazione fra l'onda di pressione e l'evento Tunguska venne molto tardi, addirittura fra il 1930 e il 1933. Ma vi fu un fenomeno che immediatamente venne registrato in diverse città europee e della Russia. Infatti a partire dalla sera del 30 giugno e poi per tutto il mese di luglio, le notti erano insolitamente chiare, soprattutto alle alte latitudini. È vero che siamo in prossimità del solstizio d'estate, perché l'evento Tunguska è il 30 giugno e quindi siamo nel periodo in cui alle alte latitudini ci sono le cosiddette notti bianche, in cui le ore notturne sono poche e la notte non è completamente buia. Però venne registrato che quelle sere erano particolarmente chiare. Addirittura venne rilevato che a Glasgow, in Scozia, si poteva leggere il giornale senza luci artificiali. A Berlino qualche d'uno disse che il cielo appariva colorato di blu e di verde nel cuore della notte. E in America, all'osservatorio di Monte Wilson, per tutto il mese di luglio venne rilevato un abbassamento della trasparenza atmosferica. Quindi un segno che nell'atmosfera, nella parte alta dell'atmosfera, erano presenti molte polveri. Quindi un'indicazione, oggi sappiamo, che c'è stato qualche corpo cosmico che si è dissolto e che quindi ha rilasciato una grande quantità di polveri nell'atmosfera più alta. Le notti così chiare furono testimoniate anche nell'immediatezza e qui abbiamo delle fotografie scattate proprio in quell'occasione. Questa in alto a sinistra è stata scattata a Darmac, nell'Irlanda del Nord, quella in alto a destra a Greenwich, quindi vicino a Londra, e quella più in basso in Russia, nella città di Tambo. È vero che le fotografie alterano un po' la percezione perché si può esporre di più la pellicola fotografica e quindi far apparire più chiaro il cielo anche quando chiaro non sarebbe. Però il fatto che in quelle sere vennero scattate queste fotografie in diverse parti del mondo è segno che effettivamente quelle serate erano insolitamente chiare e questo prima che si sapesse qual era l'origine di questo strano fenomeno. Su questa cartina abbiamo riportate le località dove vennero registrate notti insolitamente chiare. Vediamo che sono tutte nell'Europa settentrionale o nella Russia centrale, nella zona più settentrionale. Più a nord, nell'estrema Scandinavia o nella zona russa più alta, non fu tanto notato questo fenomeno, probabilmente perché lì andiamo verso le zone in cui le sere sono veramente chiare perché siamo in prossimità delle zone che vedono il sole di mezzanotte, quindi non si poteva percepire. Ma a latitudini un pochino più basse come quelle della Germania, della Gran Bretagna, della Polonia, si potevano notare effettivamente delle serate insolitamente chiare. Però c'erano anche dei testimoni di questo evento e si tratta degli Evenki che sono una popolazione che vive nel cuore della Siberia fra la Mongolia e la Siberia più occidentale. Vivono in piccole città, in piccoli villaggi e all'epoca soprattutto vivevano di allevamento di renne e di caccia e di pesca. Erano poche le persone che vivevano nella regione ed è per questo che appunto ci volle molto tempo prima di avere notizie su quello che era successo. Pensiamo che la cittadina di Vanavara, che è la cittadina più vicina al luogo del disastro, oggi è riportata sulle cartine geografiche, però conta circa 3000 abitanti, quindi si tratta di centri molto piccoli. Però questi Evenki lasciarono delle testimonianze riportate anche dai quotidiani locali. Ed è interessante questa che viene riportata perché è una testimonianza tipica di quello che riportarono le persone che videro questo fenomeno. Dice questa testimonianza come dichiarato da un testimone oculare, prima che venisse udita la prima esplosione, un corpo celeste dall'aspetto infuocato tagliò il cielo da sud verso nord. Le sue dimensioni e la sua forma non possono essere indicate a causa della sua velocità e soprattutto la sua comparsa inaspettata. Comunque, molte persone in diversi villaggi lo videro distintamente e mentre questo corpo volante toccava l'orizzonte si manifestò una enorme fiammata che tagliò il cielo in due. Sono tante le testimonianze che parlano di questa impressione del cielo tagliato in due, segno proprio di una scia estremamente luminosa lasciata da questo corpo che attraversava l'atmosfera e creò un grande sconquasso nella zona, abbiamo detto, dove abbatté milioni di alberi, ma anche in regioni più lontane l'onda di pressione fu estremamente violenta, tanto da scagliare a terra le persone che videro il fenomeno. Le prime missioni che vengono fatte scientifiche nel luogo di questa catastrofe però avvengono soltanto nel 1927 ad opera di Leonid Kulik che era il curatore della collezione di meteoriti del museo di Leningrado. Lui girava molto alla ricerca di possibili meteoriti e venne a sapere che c'era stato nel 1908 questo episodio e intuì subito che si doveva trattare della caduta di un grosso meteorite e compì quindi tra il 1927 e il 1939 quattro missioni nel luogo di Tunguska per cercare meteoriti e per cercare di individuare il cratere lasciato da questo impatto. Il viaggio è estremamente difficile perché la zona del disastro è estremamente remota, non ci sono strade, di fatto non ci sono mezzi di comunicazione facili. Pensiamo che al giorno d'oggi gli studiosi che si recano a Tunguska vanno con l'elicottero proprio per evitare le difficoltà dell'attraversamento di zone dove ci sono fiumi, ci sono montagne, valli e non ci sono strade. Vediamo questa fotografia del viaggio di Kulik dove attraversa un torrente con una sorta di piroga, una sorta di zattera e fra mille difficoltà riuscì a raggiungere la zona di Tunguska. Kulik seppe appunto di questo episodio di Tunguska nel 1921 ma soltanto nel 27 riuscì a organizzare la missione e la missione è estremamente difficile, impiegò oltre due mesi a raggiungere il luogo del disastro. La zona della Siberia di Tunguska ha un clima molto difficile, pensiamo che in pieno inverno le temperature possono scendere addirittura fino a meno 50, quindi con un freddo intenso che rende impossibile organizzare una missione di ricerca in luogo. L'estate la temperatura è molto più alta ma il terreno che è permanentemente ghiacciato scongela in superficie e quindi rende tutto acquitrinoso, tutto fangoso e quindi estremamente difficile potersi muovere, soprattutto in assenza di strade. E allora Kulik parte alla fine dell'inverno per sfruttare il momento in cui il terreno è ancora ghiacciato ma il freddo non è più così intenso come nel cuore dell'inverno e quindi impiega più di due mesi ad arrivare in luogo. Diciamo che il viaggio è molto lungo, sfrutta la Transiberiana finché può ma la stazione più vicina della Transiberiana è comunque a oltre 500 chilometri di distanza e di fatto procede con una sorta di slitta trainata dai cavalli, procede a piedi fra moltissime difficoltà fino appunto arrivare a Vanavara, da cui poi si fa condurre da guide locali nel luogo della catastrofe. E quello che trova è un ambiente effettivamente spettrale. Queste sono le fotografie scattate dalla missione di Kulik. Trovò una foresta completamente incenerita con milioni e milioni di alberi abbattuti che si stendeva per moltissimi chilometri, decine di chilometri. L'ambiente era veramente spettrale. Gran parte degli alberi erano sradicati, abbattuti e inceneriti. Qualche albero era sopravvissuto come vediamo in questa immagine a sinistra, era sopravvissuto o meglio era rimasto in piedi ma era stato completamente carbonizzato e aveva perso totalmente i rami. Sono quegli alberi che poi sono stati chiamati con un nomignolo pali telegrafici perché ricordano un palo telegrafico anche se poi in realtà erano semplicemente alberi completamente inceneriti. Come vediamo altre immagini scattate dalla missione di Kulik. La foresta era abbattuta e gli alberi sembravano tutti orientati in una certa direzione. Segno che non erano caduti a casaccio ma si era propagata un'onda di pressione che li aveva spinti tutti nella stessa direzione. Qui sulla destra vediamo un albero che è stato completamente carbonizzato e a fianco gli alberi che crescevano perché erano passati ormai molti anni e quindi la foresta iniziava a ricrescere. Kulik nella sua ultima missione del 1938 riuscì anche a fare delle perlustrazioni aeree per cercare il cratere che nonostante le sue ricerche non riusciva ad individuare. Osservando gli alberi dall'alto poteva accorgersi che erano disposti in maniera radiale rispetto a un certo centro che quindi è stato chiamato l'epicentro dell'esplosione anche se diciamo l'epicentro sarebbe un termine più che altro riferito ai terremoti però viene individuato come il punto in corrispondenza del quale è avvenuta l'esplosione che è avvenuta appunto in quota. Andando a guardare la disposizione degli alberi si è potuto ricostruire qual era il punto corrispondente al centro dell'esplosione. Il dubbio nacque a Kulik e soprattutto poi negli anni seguenti anche ad altri scienziati sul fatto che forse non era stato un meteorite a causare questa esplosione perché non si riuscivano a trovare meteoriti a terra e non si riusciva a trovare individuare un cratere. Quindi molti studiosi ritennero che la causa poteva essere un frammento di una cometa. Qualcuno ipotezzò addirittura la cometa di Encke. Le comete sono costituite principalmente da ghiaccio quindi l'ipotesi era che un frammento di una cometa fosse entrato in atmosfera in maniera molto veloce e quindi l'esplosione avesse completamente fatto vaporizzare i ghiacci della cometa e sarebbe questo il motivo per cui non si riscontra un cratere al suolo. Se ci sono meteoriti sarebbero di piccola dimensione e ormai sarebbero dispersi nella regione devastata di Tunguska soprattutto a causa del calore. La neve e il ghiaccio del terreno si sciolse e quindi probabilmente i meteoriti penetrarono in questa fanghiglia che c'è in superficie e quindi potrebbero essere dispersi a una certa profondità sotto il terreno. Nel 1991 iniziò per la prima volta ad affacciarsi a Tunguska anche l'Italia con un nutrito gruppo di ricercatori italiani che organizzarono una prima missione. Queste sono le fotografie, alcune delle fotografie che scattarono all'epoca che sono tratte dal sito dell'Università di Bologna. Gli studiosi italiani hanno organizzato nel tempo diverse missioni, hanno organizzato conferenze in cui hanno messo diversi scienziati, diverse zone del mondo a confronto in modo da discutere studi, risultati, ipotesi per capire meglio il problema della zona di Tunguska. Gli scienziati italiani hanno avuto una certa idea che è stata brillante perché quando sono arrivati nella zona di Tunguska hanno deciso di intervistare, se vogliamo, quelli che sono i testimoni che sono ancora in vita. Però questi testimoni non sono persone, ma sono gli alberi. Abbiamo un vantaggio nel fatto che a Tunguska ci fossero molte conifere. Vediamo qua sotto una fotografia di un albero cresciuto dopo l'esplosione di Tunguska e se guardiamo gli anelli vediamo che sono abbastanza regolari, quindi segno che la crescita di questo albero negli anni è stata regolare. Nella fotografia di sopra invece abbiamo la sezione di un albero che era già nato quando c'è stata l'esplosione di Tunguska. Quindi vediamo la zona centrale dove ci sono gli anelli di quando l'albero era giovane che sono disposti a una distanza regolare, segno appunto che cresceva in maniera regolare. Dopo il 1908 vediamo che la crescita è molto più evidente su un lato e molto minore sull'altro lato. L'intuizione degli studiosi italiani è stata di andare a prelevare le resine di questi alberi che sono sopravvissuti all'evento Tunguska. Le resine hanno la capacità di trattenere al loro interno le polveri che sono in sospensione nell'aria. Quindi l'idea è stata di andare ad analizzare le polveri che sono state trattenute dalla resina nel periodo intorno al 1908 perché molte di queste polveri potrebbero essere legate all'oggetto che ha causato l'esplosione. Analizzando queste polveri si sono trovati ferro, calcio, alluminio, silicio, rame, zorfo, quindi tutti elementi che sono tipici degli asteroidi e non delle comete. Negli anni 80 diciamo che era l'elemento che aveva permesso di datare l'estinzione dei dinosauri e correlarla a un asteroide era stato il rinvenimento di uno strato di iridio nei sedimenti terrestri. In questo caso nelle polveri trattenute dalla resina non ci sono tracce di iridio. Per avere una controprova gli studiosi italiani hanno voluto analizzare anche i ghiacci trattenuti in Groenlandia e nelle regioni polari per andare a vedere se in corrispondenza del 1908 a livello globale planetario ci fossero anomalie nella quantità di iridio trovata nelle polveri trattenute dagli ghiacci. In questo caso non si sono trovate evidenze chiare su una possibile presenza di iridio, così come non si è trovato l'iridio nelle polveri trattenute dalle resine. Nell'ipotesi che il corpo che ha dato origine all'evento Tunguska sia un asteroide quindi si deve ipotizzare che sia un asteroide o meglio un frammento di un asteroide proveniente da un corpo più grande che era abbastanza grande da essersi differenziato, cioè da avere fatto precipitare al suo nucleo, al suo interno gli elementi più pesanti come il ferro, il nickel e l'iridio e avere lasciato in superficie elementi più leggeri come i silicati. Probabilmente un pezzo di questo corpo più grande si è staccato a seguito di qualche impatto e poi potrebbe essere venuto a cadere nella nostra atmosfera quindi rilasciando polveri che sono riconducibili sostanzialmente a silicati. Uno studio svolto da diversi ricercatori fra cui ricordiamo Paolo Farinella e il professor Longo ha analizzato più di mille possibili orbite che poteva avere il corpo che ha rigenerato l'evento Tunguska. In pratica andando a vedere le testimonianze dell'epoca, andando a fare stime sulla quota di caduta, di esplosione, andando a fare stime sulle velocità che poteva avere il corpo e via dicendo, hanno ricostruito più di mille possibili orbite che il corpo poteva avere prima di impattare con la nostra atmosfera. E dagli studi che hanno eseguito è emerso che più di 83% delle possibili orbite sono legate a corpi di origine asteroidale, quindi asteroidi provenienti dalla fascia degli asteroidi vera e propria. Mentre solo il 17% delle orbite conducono a comete soprattutto della famiglia delle comete di Giove. Quindi è probabile che il corpo che ha originato questa catastrofe fosse veramente un asteroide e non una cometa. però se è stato un asteroide continua a mancare il cratere e invece alcuni studiosi hanno ipotizzato che in realtà il cratere sia sotto i nostri occhi ma non sia stato ancora riconosciuto. Infatti circa 8 chilometri più a nord dall'epicentro dell'esplosione di Tunguska esiste questo piccolo lago che si si chiama lago cieco che ha una lunghezza di circa 700 metri ed è largo circa 300 metri. Vedete dalla immagine presa dall'alto che ha una posizione anomala, una sorta di appendice in un'ansa del fiume Kim Chu che lo attraversa. Vediamo che l'ingresso e l'uscita del fiume sono molto ravvicinati, quindi una posizione veramente piuttosto anomala, non è un'ansa del fiume che nel tempo si è allargata. Questo qui è proprio un lago che è diverso, quindi una posizione e una forma piuttosto anomala. Anche qui gli studiosi italiani sono andati a investigare questo lago e hanno fatto una scoperta interessante, cioè questo lago ha un profilo nella sua profondità che è molto diverso dai laghi tipici delle regioni artiche. Questo è il profilo del lago che è molto profondo, raggiunge una profondità di quasi 50 metri e soprattutto ha una forma a imbuto, quindi molto profondo e molto stretto. Mentre qua sotto vediamo il profilo di un tipico lago delle regioni artiche, dove il fondo è molto appiattito e sono molto poco profondi. Quindi questo studio che è stato fatto da diversi ricercatori, fra cui appunto il professor Longo, ipotizza che questo lago non sia altro che il cratere lasciato dall'esplosione, dalla caduta del meteorite a seguito dell'esplosione di Tunguska. Una delle missioni italiane è andata anche a prelevare dei campioni dei sedimenti, proprio per capire meglio l'età di questo lago. Infatti ci sono delle cartine di fine 800 dove il lago non viene riportato. Diciamo che il fatto che non venga riportato può indicare che forse non era stato notato, visto che è una zona comunque poco abitata e dove non c'era una frequentazione, può essere che non fosse importante oppure può essere anche che non è stato riportato perché effettivamente non c'era. Le misure fatte sui sedimenti raccolti dal fondo non sono state diciamo sono state indicative ma non hanno permesso di datare con grandissima precisione l'età del lago. Per cui ad oggi non sappiamo ancora esattamente se può essere il cratere nascosto dall'acqua oppure no. Se fosse il cratere sorgerebbe un nuovo problema perché i crateri quando vengono scavati da un corpo che impatta rilasciano tutti i detriti, tutti intorno, quelli che vengono chiamati gli egetta, cioè il terreno che viene scavato viene sparpagliato in tutte le direzioni. In questo caso non ci sono segni di egetta per cui se fosse il cratere ci sarebbero comunque altri misteri da risolvere e da chiarire. Quindi ricapitolando quello che sappiamo sull'evento Tunguska è che dalle testimonianze, dalle evidenze, dalle misure fatte sappiamo che si è trattato dell'ingresso in atmosfera di un corpo che aveva un diametro compreso fra i 50 e i 100 metri. Non si sono rilevate tracce di iridio quindi poteva essere o un pezzo di una cometa oppure un pezzo di un asteroide differenziato. Nel caso dell'asteroide comunque rimane il mistero del cratere mancante. Può essere il lago cieco? Non lo sappiamo ma in quel caso bisognerebbe appunto capire come mai non si trovano i materiali espulsi. Recentemente nel febbraio del 2020 un ricercatore e il suo gruppo il ricercatore si chiama Dani Krennikov hanno ipotizzato che il cratere non si trovi semplicemente perché il cratere non c'è e la caduta dell'asteroide non c'è stata. Questo perché hanno studiato la possibilità che in realtà l'esplosione e i danni siano derivanti da un asteroide metallico quindi molto resistente per cui sarebbe potuto entrare in profondità nell'atmosfera ma che aveva abbastanza velocità da fare un passaggio ravvicinato alla nostra atmosfera senza impattare il suolo e poi avrebbe proseguito la sua corsa rimanendo in orbita intorno al sole. Quindi sarebbe entrato, sarebbe sceso molto in profondità, avrebbe causato questa onda di pressione che poi ha sconquassato la tundra e la foresta e sarebbe uscito dall'atmosfera. Sembra un'ipotesi un po' fatta ad hoc però non è un'ipotesi improbabile o del tutto fuori luogo perché un evento del genere noi lo abbiamo già visto, lo abbiamo testimoniato nel 1972 quando il 10 agosto fra gli Stati Uniti e il Canada un piccolo asteroide si valuta su una dimensione di circa 3 o fra 3 e 14 metri entrò in atmosfera negli strati più alti dell'atmosfera sfrecciando a circa 15 km al secondo. Vedete questa è una fotografia ripresa all'epoca in cui si vede nel cielo la scia lasciata da questo da questo asteroide e la parte più luminosa legata proprio al corpo che stava attraversando l'atmosfera. Per un centinaio di secondi attraversò la nostra atmosfera e poi proseguì in un incontro che non lo ha portato a cadere sulla superficie terrestre. Quindi questa ipotesi potrebbe essere valida anche per Tunguska considerando però che l'esplosione nel nostro caso di Tunguska è avvenuta a una quota molto più bassa, molto più bassa nell'ora di una decina di chilometri contro i 57 in cui ha avuto il bolide degli Stati Uniti. Però questi incontri con corpi cosmici che possono cadere nella nostra atmosfera sono piuttosto frequenti e quindi sono stati fatti negli anni campagne di monitoraggio anche attraverso satelliti per vedere che cosa sta succedendo nella nostra atmosfera. Questa qui è una mappa che riporta i bolidi più luminosi e quindi più energetici che sono stati registrati fra il 1988 e il 2020. Vediamo che sono numerosissimi diffusi su tutta la superficie terrestre. In gran parte, come era logico aspettarsi, sono sopra gli oceani però molti sono anche sopra le terre emerse e qualcuno di questi anche in prossimità dei centri abitati. Per cui è importante non solo monitorare l'atmosfera per vedere i bolidi quando accadono ma è importante continuare nelle campagne di osservazione del cielo per andare a individuare tutti gli oggetti che possono potenzialmente avere un incontro molto ravvicinato con la Terra o in futuro poter rischiare di cadere sulla superficie del nostro pianeta in modo da conoscere in anticipo e per tempo le eventuali precauzioni da tenere. Per chi è interessato a questo argomento vi lascio qualche riferimento e il primo è un libro interessante scritto da Nanni Riccobono e si intitola Tunguska, un'avventura nella taiga siberiana che è stato pubblicato da Rizzoli nel 2000. Racconta dell'evento Tunguska, delle missioni e di esplorazione e di ricerca del meteorite e dei danni, prima quelle di Kulik e poi quelle degli italiani. È un libro dedicato proprio all'evento Tunguska e alla ricostruzione di cosa accadde. Per chi è interessato invece a sapere qualcosa di più sugli asteroidi e sui rischi potenziali di impatto di asteroidi con la Terra vi consiglio il libro di Ettore Perozzi Il cielo che ci cade sulla testa, impatti cosmici e incontri ravvicinati pubblicato dal Mulino nel 2016. Infine vi lascio anche un riferimento di un sito internet che è il sito dell'Università di Bologna dove ci sono i reportage delle missioni di esplorazione fatte dai ricercatori italiani con molte fotografie, ci sono anche molti riferimenti a pubblicazioni e articoli scientifici molto dettagliati che possono aiutare nella comprensione migliore delle ricerche e di quello che è stato rilevato. Quindi per concludere, come abbiamo visto in questa chiacchierata, anche se trascorso oltre un secolo da quel giorno di giugno 1908, sono ancora molti gli enigmi che ci pone questo evento e più lo si studia più ci si rende conto che si devono approfondire ulteriormente sia gli argomenti legati a Tunguska sia le nostre conoscenze sugli asteroidi. In definitiva è questo che vogliamo ricordare in occasione dell'Asteroid Day. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi do appuntamento per un nuovo astrocottel di Polaris. Ciao ciao! 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 Ciao!